I genitori si sono fatti avanti, il comune di Arezzo ha messo a disposizione vernice e pennelli e così si è data una nuova vita alla scuola primaria di Stagiano. Weekend e serate per imbiancare i muri e permettere un ritorno a scuola più decoroso. È un regolamento che abbiamo chiamato il regolamento per il volontariato singolo di comunità che permette a una singola persona o a un insieme di persone che hanno un fine comune, un obiettivo comune di potersi rendere disponibile avendo però una copertura vera da parte dell'amministrazione sia da un punto di vista assicurativo sia da un punto di vista della possibilità di godere e di utilizzare dei beni che il comune mette a disposizione, in questo caso la vernice perché si tratta di imbiancare. È un piccolo regolamento che però apre a una grande opportunità che è quella di far sì che i cittadini possano rendersi utili se lo vogliono, mettere a disposizione un po' di tempo proprio, un po' di risorse anche professionali per un fine specifico che può anche durare molto poco e che però è un contributo alla comunità. Prima era quasi impossibile farlo perché non essendoci una regolamentazione precisa esponeva i cittadini ai rischi. Il primo rischio potrebbe essere quello che se un cittadino si faceva male andava nei guai il cittadino che si era fatto male e l'istituzione che ospitava magari quell'iniziativa, per esempio una scuola. In questo modo facilitiamo un impegno civico trovando un'alleanza codificata tra amministrazione e singoli cittadini. Il modello stagiano potrebbe presto ampliarsi non solo ad altre scuole ma anche per altri tipi di intervento come il dormitorio, grazie a un regolamento pensato dal Comune di Arezzo per permettere questo tipo di interventi di volontariato in tutta sicurezza. Ci sono alcune disponibilità per esempio nell'apertura del dormitorio, per esempio nel supporto al doposcuola perché il regolamento ha come dire due aspetti. Uno può essere modello stagiano, cioè un gruppo di genitori in questo caso si propongono nel fare una cosa. In altri casi invece ci può essere un cittadino o una cittadina che ha una esperienza professionale, la comunica l'amministrazione, può anche comunicare soltanto la propria esperienza e l'amministrazione poi la coinvolge se vi è possibilità di coinvolgimento oppure una proposta di collaborazione. Quindi sono modelli alternativi e diversi ma tutti modelli che partono dal presupposto che la generosità è libera però va in qualche modo protetta e facilitata. Quindi diciamo ci devono essere comunque delle competenze da parte di chi si propone. Sì perché una delle cose che più ci preoccupa in genere è eccessi di generosità ma nell'incapacità di fare le cose cioè non c'è niente di peggio che voler fare una cosa senza saperla fare. Quindi dobbiamo anche proteggere la comunità da atteggiamenti iperattivi. Insomma a noi interessa un attivismo codificato, protetto, libero ma anche competente. Nel giro di qualche anno se questo modello funziona noi avremo per esempio una serie di cittadini attivi che potrebbero essere chiamati in caso di necessità. Per esempio medici, per esempio insegnanti, muratori, giardinieri che nel tempo hanno collaborato con l'amministrazione e che magari in un momento particolare possono essere in qualche modo ricontattati per dare se vogliono ovviamente un supporto alla città di Arezzo.